una buona giornata benvenuti a una nuova puntata di inter connection oggi con un ospite speciale ve lo presento subito due scudetti una coppa italia una supercoppa italiana un campionato primavera marco andreolli ciao verrà arrivato ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti grazie a voi è un piacere averti qui con noi con inter connection c'è anche lorenzo matri ciao lorenzo ciao alfio buongiorno a tutti fabio valenti ciao fabio ciao buongiorno a tutti finalmente ci siamo liberati di gianmarco piacentini che non è qui con noi lo abbiamo sostituito con marco andreolli direi che è andata bene è andata bene molto bene è andata su no dai stiamo scherzando già ma non c'è un impedimento poi tra poco dovrebbe arrivare anche lui partiamo subito forte perché finalmente marco siamo tornati a vincere dopo un periodo di vacche magre una vittoria che ha sorpreso un po tutti perché io credo che nessuno avrebbe mai immaginato di andare sul campo del benfica con i numeri che aveva benfica quest'anno di fare la partita beh sì sicuramente una vittoria importante meritata un inter che è riuscita a mettere in campo grande personalità grande concentrazione grande attenzione coraggio e tutte caratteristiche doti che l'avevamo visto riuscire a mettere in campo spesso quest'anno in champions in tutte le le gare importanti della stagione sorprendendo forse sia anche un po questo questo benfica che comunque come dicevi tu è una squadra di di grande qualità di grande talento però insomma il vantaggio che si è riuscito a portare a casa la squadra nerazzurra è importante però come ha detto subito bene il mister al termine della gara e tutti i giocatori è stato fatto solo il primo passo adesso bisognerà completare insomma in maniera importante questa questa doppia sfida Lorenzo sì sicuramente io non me l'aspettavo però ci speravo tanto perché sono dell'idea che questa è una squadra forte sei partite consecutive senza mai arrivare a una vittoria una squadra così non se la può permettere quindi non me l'aspettavo ma ci speravo tanto in una reazione che potesse arrivare in una partita importantissima che ti può cambiare una stagione perché poi se riesci arrivare nei primi quattro è chiaro che tutte le critiche poi vengono dopo e anche se non riesci ad arrivare secondo terzo ma riesci a centrare l'obiettivo della champions league entrando nelle prime quattro in champions league tu riesci anche ad avere una sicurezza una capacità economica che con solo il campionato della coppa italiana non puoi averlo quindi anche da quel punto di vista è stata una partita fondamentale però è giusto che è giusto rimarcare il fatto che non è ancora finita perché ricordiamo che il benfica è una squadra molto forte prima in classifica ha perso pochissime volte quest'anno ha perso due partite in una settimana col porto e con l'inter e quindi aspettiamo a dire che sia fatta anche se siamo sicuramente contenti per la prestazione che hanno fatto i ragazzi lo dicevamo prima bastoni esemplare gli italiani barella acerbi tutti tutti hanno fatto una grande partita e fammi dare merito anche al mister perché l'abbiamo criticato più volte ma quando c'è da dire che fa le cose giuste le fa in modo egregio e anche in modo non scontato perché preparare la partita contro una squadra che ti palleggia così quindi con questa personalità ci siamo messi bassi, siamo ripartiti è stata sicuramente una partita azzeccata da parte di tutti i complimenti da parte mia all'allenatore che secondo me ha preso fin troppe critiche Fabio, io mi giungo a Lorenzo per fare i complimenti al mister ma cresce tanto il rammarico per non aver visto un Inter così durante tutta la stagione concentrata, con la testa, movimenti giusti cambia anche giusti però i ragazzi sono entrati in campo con un'altra mentalità e non capisco perché non è la stessa che abbiamo messo durante tutto il campionato che abbiamo perso delle partite veramente ridicole quindi tanti complimenti alla squadra tanti complimenti anche ai giocatori non era facile anche cambiare la mancanza di Ciaranogo ho visto un grande Brozovic questo ha un tentito di sensori anzi ricordiamo che sono tre italiani chi arriva a giocare con tre italiani in un quarto di finale di... ci lamentavamo del Milan che giocavano tutti gli stranieri quindi tanto 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 di cappello anche in previsione della nazionale ho visto un grande di Marco anche un Darmiani in un ruolo atipico che non è suo si è adattato bene si è adattato molto bene a Cerbi mi è molto impressionato quest'anno e l'ha dimostrato la mancanza di Scrignar io non l'ho sentita in questa partita ce la giochiamo a ritorno? si concentrazione teniamo la stessa domenica sabato è una partita importante col Monza? si però pensiamo anche a mercoledì allora ci sono tante cose da affrontare abbiamo la fortuna di avere Marco che è stato giocatore professionista fino a qualche anno fa allora la prima cosa e prendo spunto da quello che diceva Fabio e che diceva lo stesso Fabio Capello dopo la partita dell'Inter cioè com'è possibile un cambio di rendimento di questo tipo? perché tante volte abbiamo criticato Inzaghi per dire non trasmette la giusta mentalità ma serve davvero? cioè a voi giocatori che è un allenatore vi pungoli oppure oppure no? cioè come si fa ad avere un'alternanza di prestazioni così differente, così evidente tante volte? riuscire a rispondere a questa domanda è difficile perché sarebbe la chiave probabilmente per riuscire a capire qual è stato il problema qui in stagione nel riuscire a mettere in campo sempre la stessa mentalità la stessa concentrazione secondo me non è tanto un problema di concentrazione secondo me nelle ultime gare l'abbiamo visto comunque le prestazioni ci sono state la gara con la Fiorentina la trasferta di Salerno in particolar modo insomma la squadra la partita l'aveva fatta aveva prodotto tante occasioni da gol infatti se andiamo a vedere anche quelle che sono state le parole del mister prima della gara e nel post gara insomma c'era grande tranquillità nell'ambiente nell'ambiente squadra e molta fiducia per la gara per la gara di martedì in virtù proprio del fatto che comunque la squadra stava attraversando un buon momento dal punto di vista delle prestazioni è vero che è mancato il gol ma sono mancati i risultati però la squadra stava facendo bene è inevitabile che se andiamo a fare un conto di quello che è la differenza rispetto al Napoli in campionato insomma i punti sono tanti sicuramente l'Inter aveva bisogno di qualche punto in più e qualche gara qualche passo falso insomma è stato fatto secondo me più che altro la differenza che è riuscita a mettere in questa Champions è forse la giocare con una tranquillità un'umiltà inconsapevolmente con un'umiltà diversa che in certe partite della stagione il campionato non è riuscito ad avere ma proprio questo è lo scout è qualcosa che avviene quasi in maniera inconsapevole nel senso che l'Inter è una squadra che conosce bene quella che è il proprio potenziale la propria forza e probabilmente in campionato in certe situazioni in certi momenti quando trovi squadre chiuse quando non riesci magari a sviluppare in maniera costante in maniera propositiva il tuo gioco qualche volta magari si è fatta prendere un po' da nervosismo è venuta a mancare un po' di lucidità e lì ogni tanto la squadra si è un po' persa cosa che invece è sempre riuscita ad avere in Champions nelle coppe nelle gare importanti una lucidità una consapevolezza costante nell'arco di tutta la gara e questo secondo me ha fatto a volte la differenza e spesso alcune volte insomma l'ha fatta ecco Lore riparto proprio da un concetto che stava esprimendo Marco a volte quando non si trova la via del gol forse dipende anche dal fatto che non abbiamo sempre quei giocatori che ti saltano l'avversario che ti creano l'imprevedibilità e che ti danno quell'uomo in più esatto che poi ti sblocca tante volte le partite sì 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 è così noi ne abbiamo parlato tanto quest'anno qua di quanto all'Inter possa mancare oggi un giocatore che salti l'uomo che ti crei anche la superiorità numerica e adesso ti faccio vedere scusa se ti interrompo mentre parli una grafica pazzesca che forse ci dà anche il polso della differenza dell'Inter in questo periodo cioè gli attaccanti dell'Inter nelle ultime 12 gare hanno dei numeri assolutamente negativi ma poi il calcio è fatto anche di queste cose ci sono momenti in cui passi la palla ti sbatte sul gluteo entra in porta ed è un momento che come lo sta attraversando Lukaku anche sulla linea di porta è chiaro però quando hai dei numeri così degli attaccanti ma sono evidenti sono evidenti ne parliamo da parecchio qua Inter Connection è chiaro che quando hai di fronte a te una partita dove magari puoi difendere e puoi attaccare gli spazi sono maggiori in campionato sappiamo benissimo come le squadre italiane si chiudano e quindi non avendo questi giocatori di fantasia di qualità che ti possano imbucare che ti possano saltare l'uomo negli ultimi 30 metri l'Inter fa fatica a creare perché sviluppa principalmente un gioco orizzontale tornando anche a quello che dicevate voi della domanda che hai fatto tu relativa al fatto che ci sia quale sia la chiave per tornare ad avere un po' più di costanza anche nei risultati ecco io mi voglio allacciare al fatto di un dato molto importante l'Inter è la prima squadra in casa che prende meno gol otto gol subiti in trasferta ne ha subiti 25 se non sbaglio quindi tre volte tanto questo non può soltanto essere un fattore di campo deve per forza essere un fattore mentale perché tu non puoi saper difendere bene l'aria in casa e di punto in bianco non riesci più a difendere l'aria in trasferta quindi quest'anno l'Inter ha avuto un'incostanza nei risultati nelle prestazioni ci aspettavamo come abbiamo detto prima una partita così importante io non me l'aspettavo però ci speravo perché se guardiamo la rosa dell'Inter l'Inter è una buonissima rosa e sul fatto che ci sia urgente bisogno di giocatori che saltino l'uomo questo è da un po' che lo sottoliniamo anche perché sappiamo benissimo come ho già ripetuto in Serie A le squadre si coprono bene e quindi per cercare di metterle in difficoltà tu non puoi pensare soltanto di avere uno sviluppo orizzontale ma devi cercare anche di avere il giocatore che ti imbuchi gli ultimi 20-30 metri o che ti possa saltare l'uomo per creare la superiorità numerica e andare in porta Fabietto concordo pienamente con Lorenzo sul fatto di avere un tasso tecnico un pelino migliore i giocatori non è vero che noi li abbiamo perché Correa è stato preso apposta per quello per saltare l'uomo è vero è vero Cialanogu è uno che delibera tranquillamente Aslani comunque i giocatori che saltano poi se poi non lo io ho visto Ibrahim Diaz ha saltato due uomini superiorità numerica gol ci manca quel non so come dire come spiegartelo quell'effetto di dire ok adesso ho due scelte per vedere la palla Dumfries come dicevamo prima fuori onda non ha attaccato perché Dumfries è Dumfries è olandese è Dumfries ma non capito ma se lui vuole chiamarlo Dumfries non è mica inglese è olandese ma sai che lui viene da New York City lui ha vissuto una vita lì lui è americano non si legge Dumfries Dumfries vabbè ma la colpa è tua la colpa è tutta tua sappiamo eh vabbè comunque una volta saltato l'uomo col Benfica Dumfries sempre passati indietro a quel punto là perché è in zaghi che gli dice ascoltami gioca o non rischiare anche l'allenatore deve dire punta l'uomo salta l'uomo ma evidente non è che io penso che in serie A l'allenatore debba dire puntalo no Marco si dice se il giocatore se fai il quinto quello è il tuo ruolo no si indubbiamente poi dipende sempre un po' dalle caratteristiche del giocatore lui è un giocatore che sappiamo può mettere in campo le sue qualità quando ha spazio davanti da poter attaccare quando riesce a mettere in campo le sue qualità fisiche la sua la sua corsa la sua capacità di ribaltare l'azione quando ha campo aperto e la sua fisicità all'interno dell'area di rigore che spesso in stagione soprattutto la prima parte è stato importante fondantale lo è stato anche nella gara nella gara di Lisbona e lo sarà anche nella gara di ritorno perché quello è uno dei punti secondo me da sfruttare dove l'Inter è riuscita a mettere un po' in luce le poche debolezze di questo Benfica e sarà un qualcosa da sfruttare anche nella gara di ritorno in quello lui può essere determinante fondamentale bisogna cercare di sfruttarlo per quelle che sono le sue caratteristiche le sue qualità perché poi l'anno scorso quando arriva all'Inter non lo conosceva nessuno cioè tante volte saltava l'avversario andava sul fondo e quindi forse c'eravamo abituati anche a vederlo bene e che quest'anno da gennaio post mondiale post mondiale post mondiale non è stato più lo stesso ha fatto qualche danno l'anno scorso il rigore con la Juventus ha fatto anche qualche danno l'anno scorso il rigore con la Juventus mi ricordo gli errori li fanno tutti anche se poi con il rigore con la Juve parliamone si 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 è detto bene una cosa abbiamo due robe oggi e due robe la prossima questa si sei vicino al secondo giallo io te lo dico sei vicino al secondo giallo però oggi sei un po' eccessivo mi ha citato dubbi l'anno scorso la Juve mi sembra un po' l'arbitro di ieri cioè sei troppo la gestione dei cartellini non puoi dirmi il rigore con la Juve l'anno scorso è in tanto modo scomposto però non puoi dirmi che è entrato in maniera valenta vai fuori alla prossima dicevi Marco ritornando al discorso attore il post mondiale ecco quello è fondamentale perché una stagione lo ricordiamo complicata complicata per quello che è il calendario calendario anomalo per il fatto che c'è stato questo mondiale in mezzo alla stagione che ha dovuto ravvicinare tutti gli impegni e l'Inter è l'unica squadra comunque che è in Italia che è ancora lì a potersi giocare tutti gli obiettivi importanti e questo mantenere la stessa concentrazione lo stesso ritmo essere al 100% fisico nell'arco di tutta la stagione è sempre complicato e quest'anno lo è ancora ancora di più e per un giocatore comunque tornando a parlare di Dunfris con le sue caratteristiche è chiaro che stare bene dal punto di vista fisico è importante e probabilmente dopo che è tornato dal mondiale aveva bisogno l'abbiamo visto insomma un po' scarico dal punto di vista fisico e quello l'ha pagato adesso mi sembra che stia piano piano ritornando da quel punto di vista lì al massimo io non so come ne parliamo un attimo dopo la pubblicità e torniamo tra poco rieccoci a una mente diretta volevamo fare gli auguri anche da Inter Connection ad Alessandro Bastoni perché oggi fa e glieli fa anche l'Inter è 24 anni e insomma 3 gol 14 assist 151 presenze l'ultimo assist per il gol di Barella nel successo dei quarti finali di Champions League col Benfica dove è anche stato premiato come l'MVP della partita e se li merita tutti è Bastoni è vero Marco? Assolutamente sì perché insomma compie oggi 24 anni per cui ancora un giocatore tutto sommato cioè tutto sommato ancora giovane però con già molta esperienza alle spalle per cui già numeri importanti insomma quei 14 assist per un giocatore per un difensore sono un numero veramente io non so quanti difensori ci siano con quei piedi cioè hai piedi a centrocampista sì sì l'abbiamo visto spesso insomma poi soprattutto quella giocata lì quel tipo di giocata lì con l'inserimento di Nicolò insomma è una giocata che abbiamo visto spesso all'arco di queste ultime stagioni anche con la Juve con la Juve a Barcellona quest'anno per cui è una giocata che provano spesso ma perché è efficace importante per le loro qualità per le qualità nel calcio nella visione di gioco di Alessandro per la qualità di Nicolò nell'inserimento nel tempo dell'inserimento e perché è una giocata che giocando nel 3-5-2 si prova si prova molto spesso ed è importante e fondamentale perché è di difficile lettura da parte della difesa avversaria per cui è un movimento che molto spesso insomma gli allenatori che adottano questo sistema di gioco provano e poi se hai interpreti come loro come Alessandro con quella qualità nel calcio e come Nicolò insomma è poi chiaro che qualcosa di diverso di importante viene sempre fuori fatemi salutare anche Pasquale Guaro calciomercato.com che si è collegato con noi via Skype ciao Pasquale buongiorno buongiorno a tutti voi veniamo anche alle prossime partite Pasquale parto proprio da te perché adesso c'è questa sfida col Monza che non si può sbagliare assolutamente l'Inter ha buttato via troppi punti quest'anno l'Inter che peraltro pareggia all'andata col Monza nei minuti finali sappiamo tutti ce lo ricordiamo tutti bene come è un Monza in salute sta bene corrono ti mettono in grande difficoltà credo che la scelta di Palladino sia stata davvero una grande scelta e complimenti anche a Gagliani perché non era facile fare quella scommessa che ad oggi è vinta però è una partita da affrontare anche con la giusta mentalità anche se l'Inter quest'anno ci ha dimostrato che tre partite in una settimana fa fatica a gestirle fa fatica a gestirle Alpio secondo me non è solo una questione di stanchezza perché a Salerno non mi è parsa stanca l'Inter cioè se crei 20 così come a Firenze io non la metterei sul piano della stanchezza e adesso col Monza bisognerà capire se l'Inter ripartirà da Lisbona o da Salerno la verità è che abbiamo conosciuto due Inter una di Coppa e una di Campionato con due atteggiamenti diversi con una cattiveria sicuramente diversa e con dei problemi mentali che da una parte si sono verificati e dall'altra stranamente un po' meno io non la definirei stanchezza la squadra corre la squadra sta bene forse un po' di stanchezza l'avevo vista contro la Juventus nella sfida di campionato ma poi l'Inter a me è parsa sempre abbastanza brillante anche i dati dei calciatori non mi sembrano preoccupanti poi è vero magari in certe parti per un periodo di tempo è stata un po' corta questo sicuramente sì però ti dico la verità non è la stanchezza che mi preoccupa e poi adesso contro il Monza arrivi da un risultato che ti deve dare entusiasmo e vediamo di sfruttarlo questa volta Lore? sì no è vero devi sicuramente partire da un'energia positiva che ti possa trasmettere una partita in Champions League contro il Benfica una partita di alto livello contro contro una squadra come abbiamo già detto prima la prima del campionato portoghese però io vorrei pensare a quale sarà la decisione del mister cioè andrà con un turnover penserà più alla partita contro il Monza o darà importanza anche il campionato o darà importanza solamente alla Champions League perché oggi se guardiamo la classifica l'Inter non è sicuramente in Champions League cioè è un obiettivo che si deve giocare quindi anche a livello di turnover per Simone Inzaghi sarà una scelta molto importante quella di capire chi schierare se andare in campo con gli 11 titolari o dare priorità alla partita contro il Benfica secondo me io io andrei senza dubbio con gli 11 titolari e proverei a fare Monza e Benfica con la stessa formazione magari cambierei due magari due interpreti tre sono troppi però magari Lukaku titolare però sarei dell'idea di provare a fare queste due partite sempre con gli stessi Fabio? Sì come diceva Lorenzo il discorso di fare il turnover o non farlo sicuramente chi partirà e chi subentrerà Inzaghi tenterà bene o male di dare lo stesso minutaggio a tutti quanti anche pensi in attacco si alterano tranquillamente Dzeko con Lukaku a questo punto magari può anche partire Correa titolare poi far subentrare Lautaro o la Torna nella ripresa magari potremmo dare spazio a Gonsen sulla sinistra e perché no provare magari una Zladi a centrocampo è un bella nuova destra vediamo cosa quindi turn over quindi sei per il turnover se cambi più di 3-4 elementi però ti dico un turn over sì comunque sia chi parte Inzaghi è abituati al sessantesimo sessantaduesimo sessantaduesimo a fare a fare i cambi quindi sì è una sorta di turn over sicuramente darà priorità alla partita di martedì senza togliere nulla alla corsa Champions che è fondamentale è stra importante ecco Marco da questo punto di vista adesso come ruotare visto anche i problemi dell'attacco che abbiamo avuto prima perché Correa io non so cosa gli è successo a sto ragazzo ha perso anche fiducia in se stesso però col Benfica ha dato dei segnali di ripresa l'ho visto cattivo l'ho visto concentrato aggressivo è andato a recuperare 2-3 palloni esagerare esagerare però ogni tanto bisogna guardare anche il bicchiere un po' mezzo pieno perché vedo che dalle altre parti si tende sempre a proteggere noi magari tendiamo sempre a essere ipercritici se si vedono dei segnali di ripresa bisogna dire perché gli altri non mi sembra che stanno facendo faville no? no sicuramente ha dato dei segnali positivi è entrato è entrato bene anche e soprattutto in quello che ha dato segnali importanti in quelle che non sono le sue caratteristiche principali però in quelle cose che magari in molti insomma un po' lo criticavano in questo in questo in questo ultimo periodo insomma due o tre palloni recuperati in maniera importante è riuscito a mettere in campo subito grande determinazione grande attenzione per cui dei segnali importanti positivi sono arrivati poi è chiaro che da qui ci si aspetta altro da questo da questo giocatore io spero che che possa tornare a riuscire a mettere in campo quelle che sono le sue qualità e bisogna anche considerare che comunque è stato la sua la sua permanenza sin qui nero azzurro è stata accostellata da tanti infortuni e probabilmente questo questo ti indubbiamente ti condizionano dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista mentale è un giocatore che da questo punto di vista soprattutto si deve un po' ritrovare deve ritrovare la fiducia che è fondamentale per tutti però ripeto nelle ultime gare soprattutto quando è entrato martedì a Lisbona ha dato segnali importanti speriamo che possa continuare da qui possa continuare a migliorare quella che è la sua condizione fisica mentale perché per le caratteristiche che ha in questo momento in questo finale di stagione può risultare veramente importante per questa squadra ti chiedo tante volte da fuori la gente si lamenta perché tu hai avuto tanti allenatori nella tua carriera da ogni allenatore che tu abbia imparato e appreso qualcosa dal punto di vista tattico cosa toglie e cosa dà un allenatore che magari cambia modulo cambia sistema di gioco in base alle partite piuttosto che giocare sempre lo stesso perché oggi Inzaghi viene messo in croce per questa sua rigidità tattica ma per voi giocatori può essere un bene ogni tanto cambiare o è un togliere delle certezze dipende come quello che fa la differenza sono i risultati sono il feeling che ha la squadra penso che in questi due anni l'Inter abbia fatto un percorso importante con questo modulo con le idee che ha questo allenatore con le certezze che hanno i giocatori in campo e questo ha portato la squadra ad avere risultati importanti anche in questa Champions insomma il percorso che è stato fatto in questa Champions nelle gare importanti della stagione testimoniano proprio questo per cui è una squadra che da questo punto di vista si sente bene a giocare in questa maniera questo tipo di calcio per cui bisogna cercare di continuare su quelle che sono le proprie qualità e bisogna cercare di mettere in campo secondo me riuscire a mettere in campo i giocatori per cercare di farli esprimere al meglio in base a quelle che sono le loro qualità e quelle che sono le loro caratteristiche Lore? No però abbiamo parlato io ho sentito che hai parlato di certezze con questo modulo ma vista la stagione oggi le certezze sono poche perché abbiamo detto prima che quando abbiamo di fronte partite difficili contro squadre che si chiudono l'Inter fa fatica a creare vuoi per il modulo tattico vuoi per il fatto che non hai giocatori che saltano l'uomo vuoi per il fatto che non hai giocatori che ti imbucano negli ultimi 30 metri oggi è vero l'Inter ha vinto contro il Benfica però oggi secondo me la stagione dell'Inter per la rosa che ha per il percorso da cui viene è insufficiente è vero magari riusciremo ad arrivare nei primi 4 in Champions League però abbiamo incontrato il Porto e il Benfica se avessimo incontrato gli ottavi del finale una squadra un pochino più forte mi viene in mente il Manchester City il Real Madrid il Bayern Monaco però va bene detto ciò l'Inter gioca con il 3-5-2 ormai purtroppo non più da 2 anni ma da 4 anni perché il modulo di Conte il primo a far arrivare il 3-5-2 all'Inter è stato Conte il modulo di Inzaghi è molto simile al modulo di Conte con chiaramente interpreti e compiti diversi però secondo me i limiti oggi di giocare con un modulo sempre così fisso statico che ormai in Serie A conoscono praticamente tutti inizia a diventare un limite per una squadra così grande e importante come l'Inter non darei un voto insufficiente all'assaggiore dell'Inter comunque siamo in semifinale di Coppa Italia ci giochiamo forse la semifinale di Champions League sì il campionato è andato male ma ti posso anche dire una volta che hai 15 punti di stacco Marco magari un insegna di testi in campionato nonostante la corsa della Champions League di testa molli fossimo stati a 6-7 punti magari le partite con la cattiveria in più nelle partite contro l'Olempori contro la Salernitana c'era poi non è vero che tanto che non crei che noi creiamo il problema è che non finalizziamo i gol perché le partite comunque come dicevamo prima le occasioni da gol ne creiamo ne creiamo anche tanti hai perso 10 partite in campionato 10 partite in campionato una squadra come l'Inter non può perdere 10 partite in campionato dai sono tante sì indubbiamente mancano mancano dei punti questo è un dato di fatto però se andiamo a vedere quello che ripeto ritorno sempre al discorso di prima della complessità comunque nella gestione dei tanti impegni in questa stagione tutte le squadre non solo in Italia ma tutte le squadre d'Europa hanno avuto difficoltà nel riuscire a gestire al meglio tutte le impegni nessuna è riuscita ad avere grande continuità in tutte le competizioni insomma giocare così tante partite in maniera così ravvicinata con un mondiale di mezzo che comunque ha tolto alle squadre tanti giocatori e c'è stata una lunga pausa insomma è difficile è una stagione particolare per cui è difficile riuscire a mantenere il livello alto per tutti quasi i 12 mesi per cui da questo punto di vista qui è complicato e tutti hanno avuto dei momenti di difficoltà degli alti e bassi per cui da questo punto di vista qui insomma ripeto l'Inter è l'unica squadra in Italia assieme alla Juve ma la Juve comunque ha avuto un impegno in Europa League che soprattutto nelle prime fasi di eliminazione magari dal punto di vista proprio dell'impegno è magari meno importante di fatto l'Inter è l'unica squadra che si deve giocare ancora tutte le carte è vero che ripeto in campionato il distacco con il Napoli con la vetta è importante e lì forse che indubbiamente mancano dei punti e quello in questo momento è anche difficile cercare di capire che l'obiettivo non è più il campionato ma diventa il quarto posto un obiettivo fondamentale importante anche lì comunque adattarsi a dover in corsa della stagione cambiare l'obiettivo principale non è non è una cosa così facile così immediata da metabolizzare però insomma ci sono ancora tante partite tanti scontri diretti tanti punti in paglio bisogna cercare di cambiare rotta da subito anche in campionato perché diventa comunque fondamentale riuscire a entrare tra le prime quattro assolutamente sì un attimo di pubblicità e torniamo rieccoci in una mente in diretta Pasquale vengo da te perché oggi la curva nord ha fatto un post secondo me molto interessante poi dobbiamo aprire anche un dibattito perché meglio arrivare in finale di Champions e rischiare di non andare al quarto posto che già il rischio lo corre ugualmente vista la situazione in classifica oppure tirare Remi in barca in Champions e pensare di qualificarci alla prossima Champions League e arrivare tra le prime tre perché se arrivi quarto c'è anche il rischio di non andare in Champions League perché poi questo è un bel dibattito e di cui dobbiamo parlare Pasquale vorrei che mi commentassi intanto il post della curva perché la curva ha preso le difese di Romelu immenso bisogno di te dei tuoi gol della tua leadership avanti Romelu la nord è con te questo secondo me è un aspetto molto 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 importante nei confronti anche di un giocatore che nelle ultime partite ha fallito dei gol pazzeschi perché il gol che ha sbagliato Romelu ragazzi parliamo in questo periodo qua però capita a tutti gli attaccanti ci sono i periodi dove non segni neanche a spingere e delle volte che alla prima palla la prima occasione segni anche se volevi passarla e la palla ti entra in porta tipo ad esempio il gol che ha fatto che andreva l'altro giorno giusto per restare per restare in tema però è uno di quelli Rom che ci ha messo sempre la faccia cioè non si è mai nascosto anche nei momenti di difficoltà è andato sempre lì a chiedere scuse a chiedere supporto e forse c'è anche bisogno di questo Pasquale di gente di carattere di leadership che forse a questa squadra un po' manca più che un prendere le difese mi è sembrato un incoraggiamento nel senso in questo momento lui sta vivendo un momento di sua azione fatica a segnare sta vivendo un periodo molto particolare di incertezza perché secondo me non è neanche semplice poi se ti trovi bene in un posto pensare che devi lasciarlo pensare che devi dimostrare pensare che devi dimostrare qualcosa per giocarti le ultime chance restare scendi sempre in campo poi c'è Marco lì Andreoli che magari può smentirmi e può dire quando l'arbitro fischia tu pensi a quei 90 però ti porti dentro un pregresso un inconscio qualcosa che influisce sempre secondo me in un modo o nell'altro e credo che la curva abbia fatto bene in questo momento ad esporsi in questo modo nei confronti di Lukaku anche se poi lui è un giocatore esperto un giocatore che di di partite importanti ne ha giocate tante e ne ha decise tante quindi secondo me più che a un giocatore del genere non me ne voglia la curva perché non ce l'ho con la curva ma del messaggio della curva se ne fa fino a un certo punto cioè quello che serve a Lukaku è il supporto della società è il supporto dell'allenatore è il supporto di chi non lo deve mettere mai in discussione perché voi parlate di personalità ma non è Van Basten non è Maradona non è Battistuta e non è Ronaldo è un ragazzo forte che però ha qualche lacuna caratteriale e per esprimersi al meglio ha bisogno di qualcuno che lo mette al centro lo fa sentire forte e non lo mette in discussione tutte dinamiche che invece quest'anno per un motivo o per l'altro anche per l'infortunio perché è stato anche sfortunato ma non sta vivendo Marco? ma è sicuramente indubbiamente la testa come ricordo sempre per me conta quasi al 90% in tutti i giocatori probabilmente in questo momento con Romero ancora di più soprattutto in una stagione così difficile dal punto di vista insomma dell'infortunio questo infortunio che l'ha tenuto lontano per tanti mesi che l'ha condizionato che ne ha condizionato sicuramente il rendimento a inizio stagione e la difficoltà comunque nel riuscire a trovare la miglior condizione sappiamo quanto sia fondamentale per un giocatore come lui essere al 100% dal punto di vista fisico rientrare e non riuscire magari da subito a fare quello che lui si aspettava di poter fare di cercare di fare per questa squadra poter essere da subito importante per questa squadra indubbiamente ti può condizionare però comunque è stato un giocatore comunque fondamentale lo è stato nella partita di martedì nel gol di Porto in certi momenti della stagione in certe partite importanti è riuscito a dare il suo contributo fondamentale e questo probabilmente sottolinea un po' quella che è anche la sua personalità che comunque tu lo terresti Marco l'anno prossimo queste sono considerazioni che deve fare la società perché poi non essendo dentro io queste dinamiche non le conosco bisogna riuscire comunque sai bisogna essere in due per voler continuare per voler andare avanti adesso bisogna sono cose ragionamenti che in questo momento secondo me è inutile fare nel senso che bisogna non è il momento di pensare a quello che sarà il futuro adesso bisogna cercare di concentrarsi sugli ultimi mesi che mancano a questa stagione perché ci sono gare importanti gare determinanti c'è una stagione da finire bisogna essere tutti compatti concentrati su quelli che sono gli obiettivi da riuscire a portare a termine poi queste sono valutazioni che società e giocatore faranno parli già da dirigente fondamentalmente ormai no ma è vero perché poi è politico d'altronde quando arrivi a fine stagione che ci sono gari importanti partite importanti così ravvicinate mantenere la tranquillità all'interno della squadra di tutto l'ambiente è fondamentale per cui bisogna in questo momento lasciare perdere qualsiasi cosa che non riguardi prettamente il campo bisogna essere tutti concentrati e uniti per quello che è fondamentale gli obiettivi della squadra questo è un aspetto determinante fondamentale che bisogna portare avanti Lore? ma dai provo a dare una risposta io tu lo terresti? qualora ci fosse appunto l'interesse da parte di Lukaku di cortarsi lo stipendio qualora ci fossero le condizioni economiche tali per poterlo portare ancora un anno o anche due anni io la direi perché è un giocatore che sicuramente non sarà Van Basten non sarà Ronaldo non sarà Battistuta però è un giocatore che gli ultimi se abbiamo vinto l'ultimo scudetto l'abbiamo vinto solo per Romero Lukaku in campo Akhimi sì avevi Akhimi avevi dei buoni giocatori ma il giocatore decisivo oltre ad averlo oltre ad avere l'allenatore in panchina avevi un attaccante che distruggeva le partite gli spaccava le partite quindi un anno un anno in più io come ho detto prima se ci fossero le condizioni ideali per poterlo tenere glielo darei anche perché ricordiamoci quest'anno per lui è stata una stagione disastrosa ma mi viene in mente anche al mondiale lui al mondiale non doveva andare non doveva presenziare perché era palesemente in difficoltà eppure è andato ci ha messo la faccia l'ha buttato dentro gli ultimi 10-15 minuti della partita decisiva e ha fatto la figuraccia ma lì la figuraccia non la fa per colpa sua secondo me la fa perché c'è un allenatore che decide di metterlo dentro ma mette un giocatore che purtroppo è in difficoltà a fare quel tipo di partita e a mantenere una pressione per cui non avendo mai giocato tre mesi non puoi pensare di buttarlo dentro e che ti risolva la partita del mondiale però ecco non sono secondo me da mettere in discussione le caratteristiche di leadership e di gruppo che un giocatore come Lukaku ha dimostrato più volte di dare devo andare in pubblicità torniamo tra poco Guarro ehi due robe di mercato me le dai? e proviamo e proviamo dopo la pubblicità rieccoci alla mente diretta Guarro dacci qualche bella notizia di mercato dai dacci qualche bella notizia eh ma ragazzi ma per Bella cosa intendi? sai Bella mi piacerebbe dire che l'Inter sta trattando Holland ma non ve lo posso dire anche perché voi prima stavate facendo un ragionamento molto giusto che voto diamo alla stagione dell'Inter sufficiente o insufficiente le diamo un 6 o le diamo un 5 perché ha perso 10 partite ma però e poi c'è da dire che è andata forse può andare in semifinale di Champions e ragazzi ma il mercato dell'Inter dipende da quel quarto posto eh sì cioè oggi è tutto fermo se l'Inter non va al quarto posto si smonta tutto forse non l'avete capito quindi io te le vorrei pure dare le belle notizie ma le belle notizie te le do quando ci sono e le belle notizie te le do quando è possibile darle in questo momento l'Inter deve essere concentrata sul quarto posto perché da quel quarto posto dipendono tanti rinnovi tante possibili cessioni qualche acquisto e la verità è che in questo momento tu non ti puoi muovere sei fermo certo puoi sentire il procuratore puoi fare qualche appuntamento puoi cercare di programmare qualcosa ma la verità dei fatti è che se non hai la matematica e certezza di partecipare alla prossima Champions sei fermo anche sul mercato e questo è un bel problema intanto mi chiamate al telefono Piacentini per cortesia perché si è liberato magari facciamo fare un cameo e di sicuro questo è un bel problema perché questa è una squadra Marco con un sacco di giocatori a scadenza e anche a Marotta Auxilio come fai a lavorare senza portafoglio cioè diventa complicato ogni volta no? più che altro senza portafoglio anche senza progetto perché se lavori senza un progetto è difficile non puoi pensare di lavorare sempre all'anno no Marco sempre a distanza di un anno a distanza vediamo come sarà l'anno prossimo vediamo come sarà tra due anni cioè sarebbe bello avere un progetto serio che possa avere un discorso diciamo legato ai cinque anni non solo sempre vediamo l'anno prossimo è chiaro che si fa quello che si può certo però secondo me hanno già fatto i numeri salti mortali a maggior ragione quello che dicevo prima insomma in questo momento fare pensare tanto in là non ha senso bisogna cercare di concentrarsi pensare a quello che è il campo concentrarsi su quello che è il finale di stagione perché ci sono tante gare importanti poi una volta che sarà finita la stagione saranno prese ognuno farà le proprie valutazioni e si vedrà poi si progetterà quello che è il futuro però in questo momento insomma è abbastanza prematuro dare dare giudizi sulla stagione pensare ipotizzare a quello che potrebbe essere il futuro dell'anno prossimo sono tanti sono tutti discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano e che in questo momento bisogna cercare di lasciare tutto da parte di fuori perché la squadra il gruppo la società è concentrata e deve essere concentrata solamente in quello che sono gli obiettivi riuscire a raggiungere in quelle che sono le partite importanti che da qui a fine stagione l'Inter deve fare Gianmarco Piacentini ciao a tutti allora Gianma stiamo discutendo in studio di un argomento importante meglio arrivare diciamo al quarto posto che poi potrebbe non bastare intendiamoci meglio arrivare in zona Champions e portare a casa un po' di soldini o puntare ad arrivare in finale di Champions League e poi magari rischiando di non arrivare tra le prime quattro Gianmarco ma sai questo è il solito dubbio amletico che hanno tanti tifosi io non ce l'ho a me non me ne prega niente dei soldini perché tanto non arrivano a me saranno problemi loro nell'economia della squadra a me piacciono i risultati sportivi cioè a me piace vincere io tifo l'Inter e voglio che vinca sempre poi è chiaro perché mi piacerebbe avere tutto sia entro i quattro posti dentro i quattro posti che vanno in Champions che in semifinale o addirittura alla finale perché comunque è sempre bello certo poi se la perdi come abbiamo fatto con l'Europa League ti girano le scatole se invece la vinci come abbiamo fatto la Champions a Madrid insomma sei in un brodo di giugiole poi è una cosa è un'emozione meravigliosa però io cercherei sempre di vincere poi ripeto i conticini da commercialisti li faccio fare ad altri io non sono il tifoso che guarda queste cose io sono il tifoso che guarda le vittorie torno da Pasquale che voleva intervenire Pasquale no volevo dire che non a caso Marco diceva bisogna lasciare tutti i discorsi a parte e poi ragionare a fine stagione ed è questo che volevano fare intendere che voleva fare intendere soprattutto Inzaghi nell'ultima conferenza stampa quando dice possiamo fare ancora qualcosa ma dobbiamo stare insieme dobbiamo stare insieme significa dobbiamo pensare all'Inter dobbiamo pensare di squadra dobbiamo lasciare fuori le altre cose e perché se l'Inter spesso quest'anno non ha dato sempre la sensazione di essere sul pezzo è proprio perché intervenivano fattori esterni nelle teste e quello che si sono detti è proprio questo cerchiamo di non pensare alle altre cose cerchiamo di stare insieme cerchiamo di rimandare tutto a fine anno perché è l'unica possibilità che abbiamo di far qualcosa e qua si vedrà quanto molti dei professionisti presenti attualmente in Rosa tengono più alle dinamiche di un club da salvaguardare o più a quelli che sono i propri progetti futuri Già ma anche perché questo secondo me è un aspetto importante secondo me tante volte è mancato anche un po' di di attaccamento io ricordo tanti anni fa quando ancora andavamo molto in gira e tutto quanto Marco che abbiamo qui in studio veniva considerato un simbolo di quell'Inter lì non voglio esagerare cercate di capire quello che intendo dire Marco veniva considerato anche per la serietà per l'attaccamento per i modi facchetti tu te lo ricordi bene che in tanti ma tu lo sai che nell'ambiente di tutte le persone che erano vicine all'Inter avevi questa considerazione no? non penso di dire una cosa che tu non sapessi venivi considerato perché incarnavi un po' con lo spirito giovane molto silenzioso mai sotto i riflettori sempre professionale dedito alla società cioè avevi un po' quell'allura di bravo ragazzo non finivi mai nei casini non eri mai oggi un po' manca quella cosa lì no? ma su questo sì non sono totalmente d'accordo secondo me ci sono all'interno di questa squadra di questo gruppo tante figure che incarnano un po' quello che stavi sottolineando tu che stavate dicendo voi ed è un aspetto fondamentale se no non sarebbe comunque la crescita che ha avuto questa squadra questo gruppo nel corso di queste stagioni ma anche negli anni precedenti insomma perché poi non ci dimentichiamo quello che questa 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 squadra ha vinto i titoli che ha vinto in queste in queste stagioni la crescita in Champions però sai poi molti restano scontrati non arrivano se poi alla base non c'è un qualcosa di forte un attaccamento a questi colori a questa società in maniera importante che non considera il resto che non considera il contesto generale calcio generale in questo momento Giama rivengo da te perché io credo che poi anche tanti tifosi siano rimasti anche ascoltati dalla situazione Skriniar ad esempio o no Giama? Ma sì adesso non adesso mi sembra di aver capito chi c'è in studio Andreolli Marco Andreolli giocatore super professionale anzi bravissimo sono contento che sia lì in studio da noi detto questo sì Skriniar sai allora in questo mondo dove tutti poi cercano di tessere le lodi della propria maglia e di dicendo poi dopo sentono sventolare quattro banconotte e se ne vanno io perdo un po' l'attaccamento al giocatore come avevo prima per buon insegno a Mazzola e di dicendo corso cioè sono un po' così nel senso dobbiamo un po' aspettarcelo e quello che non capisco è che ci sono tantissime teorie in questo momento del fatto che noi siamo così splendenti spumeggianti in coppia dei campioni invece abbiamo raccattato un po' di figuracce in campionato con dieci sconfitte che non è da Inter dai diciamola è da squadra di basta medio classifica una che fa dieci sconfitte e quindi tutti cercano di dare delle analisi in verità le analisi sono tante complesse solo loro lo sanno solo l'allenatore e i giocatori sanno perché ci sono maturate queste vicissitudini poi sul discorso dell'attaccamento alla maglia anche adesso vediamo dei giocatori che non voglio nominare che continuano a baciare maglia continuano a venire sotto poi dopo bisogna vedere quando li metti davanti al bivio se la maglia la baciano ancora o se ne fregano e guardano altri orizzonti no perché poi il discorso Skriniar poi ci sono mille motivi mille situazioni tutti ci eravamo attaccati fortissimamente a sto ragazzo qua e poi poi anche lui avrà le sue motivazioni magari un giorno le dirà anche per poi rischiamo di rimanere incastrati tutte in questa vicenda purtroppo ragazzi è trasmissione volata volata abbiamo 40 secondi ci tagliano quindi non possiamo più andare avanti oggi è andata così ma siamo felici che sia andata così anche perché siamo felici che sia venuto con noi e da noi Marco Andreoli che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza grazie a voi dell'invito grazie a voi buon proseguimento sempre lo ritroverete su e lo trovate sempre su con i colleghi di InterTV io saluto e ringrazio Gianmarco Piacentini che era collegato con noi ciao Giamma ciao vi abbraccio ciao Giamma fatemi salutare anche Pasquale Guarro calciameccato.com ciao ragazzi un bacio a Camilla ciao Pasquale saluto anche Lorenzo Macri ciao Lorenzo ciao a tutti fatemi salutare anche Fabio Valenti ciao Fabione ciao a tutti ritrovate il programma lo mettiamo all'arco della giornata sui nostri canali social collegato a Youtube appena verrà pubblicato grazie per averci seguito grazie ancora Marco buon proseguimento ciao a tutti